Un Vangelo questa domenica dal sapore enigmatico, un brano che sembra tratto da un film di guerre stellari o di fantascienza. A tratti sembra portarci persino ad avere paura del futuro. Se lo leggiamo con gli occhi della fede, però troviamo la risposta, che non ci parla della fine del mondo, ma del fine che ha il mondo. Quanti terremoti della vita viviamo periodicamente. Dopo ogni terremoto bisogna avere il coraggio di ricostruire e ripartire. Invece siamo più abituati a sopravvivere che a vivere. Dobbiamo invece andare oltre ad una vita fatta solo di routine, fare diventare l'ordinario qualcosa di straordinario. Quando succedono i terremoti nella nostra vita bisogna avere il coraggio di riprenderla subito un mano, di ricostruire. E ricostruire significa di non restare seduti, trovare la forza in Dio, in colui che ci ha dato la vita, di ripartire. Perché ripartire nella vita è un segno chiaro per noi stessi e per il mondo, di non avere perso la speranza. Nonostante le tante tragedie della vita, come sono espresse nel Vangelo di oggi, dobbiamo avere il coraggio di ripartire. Pensare a ricostruire è un sinonimo di non perdersi nel pessimismo. I cristiani non possono allinearsi a un mondo che pensa sempre in negativo, che non ha più speranza, che vive come se fossimo sul baratro e a tempo breve cadere giù. I cristiani devono distruggere le tenebre e far vedere al mondo che c'è la luce di Cristo che illumina la loro vita, che dà la fede, che dà la speranza, che dà la carità. Non è il tempo di restare a guardare passivamente la storia. È il tempo di svegliarsi come cristiani coraggiosi. Cristiani coraggiosi vuol dire riconoscersi peccatori, certamente, ma forti e solidi nella fede. E allora mi viene da riprendere una bellissima frase che Papa Francesco disse il 13 gennaio del 2017 in una sua omelia. Il Santo Padre diceva così Per seguire Gesù bisogna camminare, non rimanere fermi con l'anima seduta. Mi fido di Gesù, affido la mia vita a Gesù? O sono seduto guardando come fanno gli altri? Sono seduto con l'anima seduta, diciamo così, con l'anima chiusa, per l'amarezza, per la mancanza di speranza? Ognuno di noi può farsi queste domande oggi. Allora, seguendo proprio le parole del Papa, facciamoci questa domanda. La nostra vita com'è? È seduta? È passiva? È trascinata? Oppure è dinamica? Ci mettiamo alla sequela di Cristo? Fondiamo la nostra vita sulla parola di Dio? Il vero cristiano è colui che ha sempre un atteggiamento di cambiamento, non secondo le mode dei tempi, ma secondo i segni dei tempi, come diceva San Paolo VI. Mai fermarsi davanti agli ostacoli della vita. Dobbiamo gettare la vita in Dio per superare gli ostacoli, le croci della vita. Oggi è sempre più difficile vedere persone che si fidano, lo vedono spesso come un optional, il caro buon Dio. Invece noi dobbiamo essere cristiani coraggiosi, che dobbiamo trasformarci, come c'è scritto nel Vangelo di oggi, in angeli. Angeli, in greco, significa messaggero. Nel Vangelo si legge appunto che gli angeli radunano i discepoli e li sostengono. Solo vedendo dei messaggeri, cioè degli angeli nella vita, possiamo avere il coraggio di andare avanti senza perdersi d'animo. Dobbiamo imparare ad essere proprio così, ad essere degli angeli che annunciano la speranza, che annunciano la fede. Allora, credo fortemente a ciò che disse San Giovanni della Croce. Al tramonto della nostra vita verremo giudicati sull'amore, riprendendo anche ciò che si dice sempre, durante la messa, prima di ricevere l'eucaristia, la comunione. Il sacerdote dice, non guardare, Signore, i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. Allora, il Vangelo di oggi non ci porta a cadere nelle tenebre, ma a fondare la nostra vita nella fede in Cristo, nella speranza di Cristo e nell'amore di Cristo. E a questo punto potremo testimoniare realmente che siamo nati e non moriremo mai più. Noi crediamo nella vita eterna e non nel nulla eterno.